I massofisioterapisti di tutta Italia si ritrovano al Park Hotel di Ponte San Giovanni per studiare le strategie in occasione di quello che sarà il verdetto finale del 21 di aprile per quella legge che è stata approvata e che cancella praticamente con un colpo di spugna quella che è una vera e propria professione. Il problema resta, aspettiamo tutti il 21, tu hai detto vediamo di vincere la partita e di non fare la partita di ritorno, la bella, sarà dura ma ci pensiamo tutti. Stamattina io penso, nonostante tutte le difficoltà che ci sono state a causa di questo virus che ha fermato il paese, io penso c'è stata una buona rappresentanza dei massofisioterapisti che ritengo che siano dei veri eroi che è venuto qui a Perugia dal nord e dal sud significa veramente ci teneva a partecipare a questo incontro che poi è stato abbastanza piacevole abbiamo fatto il corso, l'abbiamo formato, hanno fatto un bel corso BLSD ma quello che abbiamo discusso soprattutto insieme al segretario generale della Fesica è quello che fare per quanto riguarda l'iniziativa che noi già abbiamo proposto quella legale, abbiamo fatto ricorso al TAR nel mese di settembre il TAR nella prima partita, nel primo tempo ce l'ha data a noi quindi ce lo siamo aggiudicati, ha sospeso i termini che erano dicembre del 2019 per cui in effetti tutti coloro i quali che non c'erano 36 mesi di attività al 31 dicembre del 2018, secondo il decreto legge non potevano più lavorare oggi grazie al nostro ricorso fino al 21 aprile possono lavorare poi c'è stata chiaramente la proroga delle mille proroghe che arriva fino a giugno però quella è molto relativa noi la partita ce la giochiamo adesso il 21 volevamo chiaramente avere un incontro prima con il ministro però per le vicende che chiaramente si sono avvicendate cioè in effetti il problema del coronavirus chiaramente c'è priorità rispetto a tutti forse anche sui massi fisioterapisti quindi penso che il ministro e il suo apparato si è impegnato sotto questa versante però se il 21, se arriviamo al 21 senza incontrare il ministro insomma noi la partita ce la giochiamo lì a Roma, al TAR del Lazio e stamattina abbiamo deciso come assemblea, come massi fisioterapisti, come Fesico, come Consal di essere presenti in numero abbastanza consistente quindi di andare tutti al TAR e far sentire il malessere che la categoria soffre sono circa 10.000 persone che a un certo punto gli viene tolto il lavoro sono circa 30.000 persone che vengono coinvolti in questa decisione azzardata da parte del governo che toglie la possibilità delle persone che si sono qualificate di non poter svolgere più l'attività quindi noi saremo lì il 21 a far pressione, a soffiare sul collo anche chi deve giudicare e dopo chiaramente andremo a fare anche un saluto al ministero, al ministro quindi andremo lì a protestare sotto il ministero stesso perché in nessun paese del mondo si vede che per decreto cancellano con una penna un titolo di studio se passa questo principio sono tutti a rischio quindi partendo dagli ingegneri, ai medici, dagli infermieri, dai geometri quindi noi stiamo lottando per tutti e sperando che questa nostra battaglia vada a buon fine Sì, il 21 di aprile ci troveremo a Roma, al Tar, per vedere qual è stata la loro posizione che cosa ci vengono a dire su questo ricorso che noi abbiamo presentato e che fortunatamente abbiamo vinto la prima battaglia bloccando la legge che non permetteva ai massi fisioterapisti di essere riconosciuti quel discorso ante 99 e post 99 per cui il 21 aprile andiamo a vedere che cosa ci dicono e come giustamente dicevi è un momento di verifica perché lì andiamo a capire se quello che abbiamo richiesto viene accettato e per cui non viene più riconosciuta questa discriminazione per i massi fisioterapisti e per cui andiamo avanti, sicuramente portando avanti altre lotte nel senso di cercare sempre di ancora più far riconoscere questa professione oppure entrando in merito in una lotta, chiamiamola, un po' più dura perché se non vengono accettate le nostre richieste sicuramente dovremo andare a lottare un po' di più il 21 aprile sarà il punto di verifica di quello che è iniziato e speriamo e sicuramente dalla parte Fesica, Consala, c'è tutto il nostro impegno perché finisca nel modo migliore per i nostri amici lavoratori massi o fisioterapisti Grazie 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 Grazie